Truffe agli anziani. Maxi operazioni congiunta di polizia e carabinieri dalle prime ore dell'alba partita da Napoli con l'obiettivo di catturare la cosiddetta banda composta da persone di origine partenopea che agiva in tutta Italia compreso il veneziano. Di recente è anche il miranese dove le truffe agli anziani sono aumentate a dismisura. 12 le persone arrestate, un sospetto ancora a piede libero. La tecnica più utilizzata era quella del finto appartenente alle forze dell'ordine o del finto avvocato. Una telefonata a casa della vittima annunciava che il figlio aveva provocato un incidente stradale e per questo era stato arrestato, quindi servivano dei soldi per la cauzione o la difesa legale. Un carabiniere o un poliziotto diceva che una persona di lì a poco sarebbe arrivata a casa per riscuotere denaro o gioielli a titolo di risarcimento del danno. Riuscivano ad evitare il pericolo di perdere i proventi illeciti monetizzando immediatamente in compro oro ed eseguendo poi bonifici verso carte postali intestate ad altri complici. Per muoversi utilizzavano auto a noleggio e per non lasciare tracce cambiavano continuamente le sim e i cellulari. Nei sei mesi di indagine sono state ricostruite 66 truffe tra consumate e tentate. Sono stati recuperati e riconsegnati alle vittime l'oro e i preziosi oggetto di 5 truffe per un valore di circa 100.000 euro. Grazie.